Pubblichiamo oggi il primo bollettino di aggiornamento del monitoraggio del ghiacero di Blanc-Pensier. La situazione è divisa sui vari settori che osserviamo. Abbiamo il settore A, il settore basso, con il volume che sta accelerando un piccolo volume di 25.000 m3 circa, mentre il settore B, che osserviamo con i 250.000 m3 potenzialmente instabili, continua il suo trend di velocità costanti, come il settore C, che rimane a velocità basse senza evidenziare nessuna accelerazione.